Affrontare i bisogni e costruire la società. Da dove partire? E' questo il sottotitolo di Prospettive, il progetto presentato ieri martedì 12 aprile nella Sala del Consiglio Comunale. Presente all'incontro il coordinatore Caritas Pesaro Andrea Mancini, il direttore CDO Pesaro Urbino Angela Tringali, il consigliere regionale Nicola Baiocchi, l'assessore regionale Guido Castelli e il consigliere comunale Michele Redaelli. E' un percorso che facciamo insieme alla città e con la città e con le persone e le realtà del nostro territorio. E' un percorso che stiamo animando insieme ai colleghi consiglieri comunali, colleghi dei consiglieri di quartiere e a tante persone della società civile che si spendono quotidianamente nelle varie realtà in cui operano. E' un percorso di ascolto, di condivisione, di confronto su tante tematiche, da quelle più contingenti della città alle tematiche a 360 gradi della nostra società. Quello che vogliamo fare è andare a identificare alcuni problemi, alcune tematiche e guardarle sotto diverse prospettive. Questo è il cuore del nome del progetto che lanciamo e soprattutto con prospettive lanciate verso il futuro. Quindi per anche immaginare quella che può essere la città e il nostro territorio dell'oggi ma soprattutto del domani. Lo faremo coinvolgendo in maniera attiva tante persone della nostra città, imprenditori piuttosto che persone del mondo delle associazioni, piuttosto che persone del mondo della politica e delle amministrazioni, ma anche con uno sguardo aperto a 360 gradi per andare a individuare quei buoni modelli e quelle buone pratiche attorno a noi da poter in qualche modo analizzare, seguire ed eventualmente anche riportare sul nostro territorio. Non c'è tanto bisogno di pensiero. Spesso e volentieri noi, anche chi come me fa politica attiva, constatiamo come i social e i nuovi tempi della politica quasi impongono delle reazioni immediate di fronte ai fenomeni. Quasi non c'è tempo per pensare, per meditare, per capire che rispetto a un like, rispetto a un follower, c'è qualcosa forse di più. È il dramma del pensiero, diceva qualcuno, mi pare Schopenhauer. Siamo qui per verificare se a Pesaro c'è la possibilità di riattivare, non dico i neuroni, però diciamo le capacità di leggere le cose che stanno accadendo rapidamente e senza dare, almeno apparentemente alla singola persona, la possibilità di contare davvero. Siamo qui per parlare e per aprirsi. Per l'occasione l'assessore regionale Castelli ha risposto anche ad alcune domande sul tema più caldo degli ultimi giorni, l'arretramento ferroviario. Noi diciamo che il compito della regione è quello di tenere insieme lo spazio compreso fra Gabic e Porto d'Ascoli e inevitabilmente, come ha fatto Francesco Baldelli, abbiamo bisogno di una visione insieme. Questo non vuol dire penalizzare qualcuno, ma fare sì che alla logica dell'out-out vi sia quella dell'et-et. Quindi al mio vecchio amico e già collega Matteo Ricci dico mettiamo insieme tutto ciò che può essere unito perché i benefici del singolo territorio non si disgiungono dai diritti di tutto il resto del territorio regionale.